La violenza in pieno giorno. Sono passate le 4 del pomeriggio quando a Montecchio Maggiore, in via Giuriolo, un 42enne albanese, titolare di un bar, viene aggredito. Sangue e paura, l'uomo viene ferito gravemente con due coltellate. Quello che accade in quei drammatici frangenti è tutto da ricostruire, ma a quanto pare l'aggressore sarebbe spuntato alle spalle della vittima e con un grosso coltello lo avrebbe colpito a un fianco, perforandogli un polmone e a una gamba all'altezza della coscia. Poi l'aggressore, presumibilmente un italiano, si sarebbe dileguato facendo perdere le sue tracce. Nonostante le gravi ferite il barista è però riuscito a chiamare al telefono un familiare che abita poco lontano e a dare l'allarme. Sul posto sono accorsi i medici e gli infermieri del suo M118 e i carabinieri che avrebbero identificato l'aggressore. Il 42enne è stato portato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora tocca agli investigatori chiudere il cerchio, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e per capire perché si esplosa la violenza in un pomeriggio come tanti a Montecchio Maggiore.